Lotta agli incendi. Saranno utilizzati due elicotteri specificatamente attrezzati per lo spegnimento degli incendi boschivi ad esclusiva disposizione del territorio regionale nel periodo compreso tra il 15 giugno e il 30 settembre 2012. Lo prevede una convenzione siglata dal direttore generale del Dipartimento Ambiente Donato Vigiano e dal comandante del Corpo Forestale dello Stato Francesco Curcio e rientra tra le attività previste nel programma annuale antincendio 2012. I due elicotteri con base a Grumento Nova e Piscicci saranno schierati a presidio dei territori della Valdagri-Lago Negrese e della fascia ionica del Materano, aree considerate ad elevato valore paesaggistico ambientale oltre che ad elevato rischio di incendio. Per l'assessore all'ambiente Vilma Mazzocco la disponibilità in esclusiva dei due elicotteri potenzia l'efficacia dell'attività di spegnimento perché consente di intervenire tempestivamente anche in contesti territoriali difficilmente raggiungibili o in molti casi non raggiungibili con gli ordinari mezzi antincendio.